Buongiorno amici, benvenuti nel nostro nuovo canale Vanessa e Anastasia. Oggi vi faremo vedere qual è la nostra morning routine durante le feste. Quindi mettetevi comodi, mangiate un bel pacchetto di patatine, sorseggiate una Coca-Cola e guardate il nostro video. In vacanza tutto è più semplice, la colazione diventa un momento veramente da dedicare al 100%. Solitamente quando andiamo a scuola non abbiamo mai il tempo nemmeno di fare colazione, siamo sempre in ritardo, di corsa. Ma oggi preparerò a Vanessa e Anastasia una colazione super. Intanto volevo farvi sapere che Vanessa sta ancora dormendo, Anastasia si è già svegliata, ma come ben sapete ormai lei non ama essere ripresa al mattino appena sveglia. E quindi la spiegheremo in nascosto senza che lei se ne accorga. Guardate un po' che c'è. Eccola, sta già guardando la televisione i suoi programmi preferiti. Sta aspettando la colazione perché lei sa che cos'è. Eccola, ciao amore! Buongiorno, buongiorno amore mio! Possiamo fare un salutino ai nostri amici? Veloce? Di ciao? Niente? Dopo la colazione? Eh? Dai! Non l'ho riuscita a far strappare un piccolo sorriso ad Anastasia, però ha tanta fame, quindi adesso non vi svelo quale colazione preparo le mie bambine durante le vacanze e ve la farò vedere tra pochi minuti. Ciao! Colazione pronta amici, adesso vado a svegliare Vanessa! Ciao a dopo! Eccaci qua in cameretta dalla nostra dormigliona! Ehi, signorina! Vane! Sveglia! Non senti un profumino niente male? No! Bene! La colazione è pronta! Allora, andiamo a far colazione che poi abbiamo un paio di cose molto urgenti da fare. Ma buone cose c'è da colazione? Non te lo dico, è una sorpresa! Una cosa che ti piace tantissimo! Dai, muoviti che Anastasia ha fame! E là, buongiorno! Buongiorno! Tu e il minion, andiamo a far colazione minion! Eh, andiamo! Ti piacciono quelle cose buone 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 con dentro quella cosa buona buona buona! Sì, ok, andiamo! Buon appetito! Contenta? Che cos'è? La creppa alla nutella! E a te piace la creppa alla nutella? Sì! E' la tua colazione preferita? E in vacanza possiamo farla perché abbiamo tanto tempo, vero? Invece quando andiamo a scuola non facciamo nemmeno colazione perché siamo sempre in ritardo! Allora, buon appetito amore! E poi andiamo a prepararci e dobbiamo andare a fare un paio di commissioni, eh? Ciao! Buon appetito amore mio! Buon appetito! Amore, sono buone! Eh? Avevi tanto fame, vero? Mmh? Usciamo dopo? Ok! Hai finito la colazione? Buon appetito! Eh? Chichuwa! Eh, chichuwa! Chichuwa, ascolta! Dobbiamo andare a prepararci, a lavarci e a vestirci perché dobbiamo uscire! Dove vai? Che cosa è? Sei già vestita? Un bello, tutto colorato, a righe, come se è la moda! Mmh, bello pulito poi soprattutto! Vi siete puliti la bocca di Nutella? Allora, andiamo! Sì! One, two! Eh? One, two! Sì! Vai amore, lavati i dentini! E per quanti minuti li devi lavare i dentini? Due! Vai! Bravissima! Bene, bene! Con calma! I denti si lavano con calma! Altrimenti si abbassano le gengive! E ti cadono tutti come le vecchiette! Brava! Ma brava amore mio! Due minuti, lavali piano piano! Come ti piace? Sì? E sei ancora lì? Bravissima, guarda quanta schiuma! Ok, dai che poi ci andiamo a vestire! Avete scelto i vestiti? Beh! Questi sono i miei! Ok, bellissima! Guardate che belli questi pantaloni con l'elefantino! Mentre Anastasia, magliettina, glitterata da una parte e i pantaloni a quadri! Ok, dai vestiamoci che siamo in ritardo! Su! Ok! Sei pronta amore? Sì! Ok, allora, abbiamo iniziato a fare i compiti giusto in questi giorni! Che cosa ci siamo accorte? Buono! Ci siamo accorte che ci manca... Ah, il quaderno di matematica! Esatto! Quindi adesso sai cosa facciamo? Prima che chiuda, andiamo in cartoleria, andiamo a comprare sia il quaderno di matematica che anche quelli di italiano, così almeno abbiamo una scorta! Ok, andiamo a prenderli! Stiamo dietro anche un quaderno di matematica e uno di italiano, così non sbagliamo righe e quadretti! Ok? Dai! Ok! Finalmente in macchina! Siamo un pochino in ritardo, bimbe! Ani, ti sei legata? Sì! Bravissima, amore mio! Andiamo! Andiamo a prendere Daniel e i quaderni! Finalmente siamo arrivati! 8 giri per trovare un parcheggio! Eh? 100 giri per fare un parcheggio! Esatto! Adesso andiamo a prendere i quaderni, poi andiamo a prendere il nostro fratellone Daniel! Ciao! Siamo uscite, finalmente! Ok, allora, cosa abbiamo preso? I quaderni avane e per Anastasia, che è sempre la solita, che chiede sempre tutto! La penna! La bellissima penna! E la mia! Con Babbo Natale, che si illumina! Ciao, amore mio! Andiamo a prendere il tuo fratello! Eh? Sei contenta? Sì! Sei contenta, Anastasia, che arriva Daniel? Sì! Cosa stai facendo? Stai riprendendo anch'io! Ah sì? Mi stai riprendendo? Brava! Impara, amore, impara! Siamo arrivati da Daniel! Adesso aspettiamo che scenda! Speriamo non ci metta? Troppo! Come piace a lui! Arrivato ragazzi, attenzione! Ciao! Ciao! Buongiorno! Ciao! Come stai? Come stai? Ci sono due regali da aprire per te, portati dopo il Natale! Tutto bene, amore? Sì! Sì? Sì! Sei felice di vederci? Mmh! Un pochino più di gioia, amore! Sì! Oh, siamo tornati a casa, finalmente! Allora, Vanessa, la nostra mattinata finisce qua e sei contenta dei quaderni? Sì! Quindi adesso sei felice che farai i compiti? Finalmente! Tant'altro oggi non mi fai più! Oggi ti ho promesso di no perché ieri ne hai fatti tanti, va bene? Sì! Ciao amici! Se il nostro video, se la nostra morning routine vi è piaciuta, cosa dovete fare? Iscrivetevi al canale! E? Attivate la campanella! Lasciate il like, iscrivetevi al canale e fate tutto il tuo canale e fate tutto la qualsiasi che volete! Yeah! E condividetelo con i vostri amici! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! Buon anno a tutti! Buon anno a 2022! E poi è... 2022! Sì! 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 Grazie a tutti.